Carissimi fratelli e sorelle, oggi 10 ottobre, ascoltiamo il Vangelo secondo Luca 10, 38-42. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse, Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire, dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose, Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta. Parola del Signore Ascoltiamo il commento di Don Luigi Marepicoco. A Betania Gesù aveva trovato degli amici. La prima volta che incrociò questi amici fu a causa di una di essi, Marta. Stiamo attenti a parlare male di Marta, perché ella è la rappresentazione più bella dell'accoglienza e lei è la porta dell'amicizia. Certo però c'è anche da dire che questa donna dell'umanità, bellissima e accogliente, ha un problema di attivismo. Marta invece era tutta presa dai molti servizi. Qual è la conseguenza? Uno strano rancore per gli altri. Le persone che sono ostaggio del loro fare, alla fine, si convincono che tutto il mondo si poggia solo su di loro e che gli altri se ne approfittano, fino al punto da lasciarle da sole. Ma in verità Gesù svela la vera chiave di lettura. Nella vita la concretezza è tutto, ma c'è un modo di essere concreti che ci fa perdere di vista l'essenziale. Dio è quell'essenziale che non dovremmo mai perdere di vista. Eppure viviamo in un mondo che considera Dio un hobby, da fine settimana o la fissazione di una minoranza. Ma se si oscurasse il sole, quale vita potrebbe esserci nel mondo? Ugualmente Dio è quel sole che solo se lo lasciamo splendere, silenziosamente ci mantiene vivi.